Lavori in corso, siamo in via Roma, Pozzo Leone, gli operai stanno rimuovendo una pista ciclopedonale. Nulla di strano se non fosse che proprio la pista in questione non abbia neanche due anni di vita. La segnalazione è arrivata dal nostro telespettatore che ha chiamato Rete Veneta perché, ci ha detto, trattandosi di opera pubblica è stata pagata con soldi pubblici, soldi dei cittadini per farla breve. Denaro servito per realizzarla e poi, non si capisce perché, altri denari per smantellarla. Voci dicono che il lavoro fatto nel 2017 sia un impedimento a eventi come la prossima Fiera di San Valentino perché, dicono sempre le voci, la pista ciclopedonale andrebbe a limitare l'ampiezza della strada creando problemi di sicurezza. Se così fosse, ci chiede il nostro telespettatore, perché non valutare a priori questo problema visto che la Fiera di San Valentino esiste da oltre 500 anni. Le macchine passavano nel 2017 così come passano oggi lungo via Roma. Perché farci buttare via soldi? È la domanda che ci pone. Noi andremo a chiedere l'UMI in municipio.